Sessione di mare! Posso essere comico se stesso? Sono capito se vedi o se c'è una parete? La vinti così via! Io con qualcuno devo fare una parete, va bene, senti, sento solo! Questa è una pacchia vecchia! Siamo giù al finale, gli ultimi sei minuti vi dedichiamo a qualcosa di più nuovo, previtualmente! Inizio anni 90! Mr. Holloway! Allora, le mani con le mani! Su con le mani! Adesso, Swanislaw! Che spettacolo! Che spettacolo è un ruolo umano! Ocran 2014! Grazie a tutti! Siete uno spettacolo! Sì, è un ruolo più picciato! Sì, è un ruolo più piccolo! Sì, è un ruolo più piccolo! E adesso, fa da sé! L'interno deve sempre arrivare L'interno deve sempre L'interno deve sempre arrivare L'interno deve sempre arrivare Siamo facendo fine E ancora un corona, stai sui corona Qua c'è il rossetto, la cascina in Italia Oh baby, baby, baby Oh baby, baby Oh baby, baby Adesso, tutti insieme! Iscriviti a tutti i nostri amici Bene, saluto anche Nero, da che ci siamo. Ciao Nero! Ehi, ciao, basta! Ehi, Nero! Ci chiamano a fine. Questa è la fine del mio bicchetto, eh. Tu ringrazio. Passa, 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 passa. Luca, number two! Grazie a tutti. Ha bisogno del tuo splendore, Giulio. Signori e signore, ma già meno un E. Lei, 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 lei! Mi dice il set che si è appena concluso la seconda Giulio Fai DJ! Grazie a tutti, ragazzi. Buona serata, buon procedimento con gli altri ragazzi. Ciao, grazie. Ragazzi! Ragazzi! Magari! Allora, mentre tutti si fanno le foto... Allora, tu preparati. Non ci siamo? Aspetta. Sì, sì. Ok. Luca, tieniti pronto a farmi fade out su base? E' venuto a trovarci un amico che per noi era un collega DJ, inoltre che qualche cos'altro e ci teneva a salutarvi. Vieni qua. Due amici. Un musicista e un disjockey. Finalmente posso dirlo. Gianni e Luca. Andate a chiamare quei 4 o 5 che sono rimasti a casa perché se non ne manca 4 o 5 soli siete uno schianto. grazie a questi ragazzi che voglio bene che hanno tenuto in piedi uniti i sogni di una generazione intera che si ritrova qui stasera. Grazie a tutti. Ciao. Divertitevi. Buona serata. Grazie. No, io... Vedete che mi sono emozionatissimo. È una cosa stupenda. Ma chi è? Ma chi è lei? Io purtroppo sono amico tuo. Va bene. Grazie a tutti. Grazie a loro. Grazie a tutti voi. Grazie. Siete stupendi. Grazie. Mi permetto di dire una cosa. 80 ha avuto un seguito perché l'assessore che c'era prima ha passato le consegne e l'assessore che c'era dopo e ci hanno dato una mano. Quindi ci tenevamo. Ok. Torniamo nei ranghi. È il momento del DJ più serio di tutti. Lo vedete già in console.